Capuccio presenta Spacca Napoli Times in scena al teatro San Fernando di Napoli da 4 al 22 novembre drammaturgo, attore e regista per Tenopeo torna dopo più di dieci anni di assenza nella sua città e apre ufficialmente la stagione del teatro San Ferdinando di Napoli che era il palcoscenico prediletto di Edoardo De Filippo Di che cosa si tratta? Che cos'è questa Spacca Napoli Times? Intanto abbiamo la fortuna di lavorare in un teatro straordinario perché è un teatro unico in Italia nel senso che si sente profondamente tutta la spiritualità e la forza espressiva di Edoardo ma Edoardo lo progettò anche in maniera straordinaria per farci vivere le nuove generazioni e nel progetto del nuovo teatro nazionale di Napoli il San Ferdinando si avvia a diventare una casa della drammaturgia e delle scritture contemporanee che cosa molto lodevole in Italia Spacca Napoli Times è la storia di quattro fratelli Partirei molto velocemente da una piccola riflessione di Einstein nel quale un giorno disse, bevendo una tazza di caffè se partiamo da A e ci serviamo della logica al massimo arriviamo a B se partiamo da A e ci serviamo dell'immaginazione arriviamo all'infinito quattro fratelli, i fratelli Acquaviva il protagonista è uno scrittore che detta al telefono le sue opere ad un critico raccomandandogli di pubblicarle soltanto dopo la sua morte e in maniera del tutto anonima convoca i suoi fratelli in una strana casa del centro storico di Napoli tappezzata a tutta altezza a bottiglie d'acqua vuote e piene perché deve svelare loro una cosa molto particolare un segreto, un appuntamento misterioso si tratta di un grande circo comico che però fondamentalmente tratta i temi più rilevanti della società i temi che toccano il profondo dell'io e riuscire a toccare il profondo dell'io è cosa che si può fare solo attivando i corti circuiti di due grandi lingue della scena italiana che sono il napoletano e il siciliano ecco tra l'altro appunto due fratelli che sono due maschi e due femmine Giuseppe è psichiatra ma non esercita e dorme tra i binari della stazione si tratta di persone fuori dal gioco sociale grazie alla loro immaginazione vivono in altra maniera e sono persone strangolate, deportate psicologicamente ci sono due modi oggi di vivere un esilio uno è quello di essere portati fuori dal proprio territorio l'altro modo è quello di rimanere nel proprio territorio ma essere deportati psicologicamente grazie ad una serie di pressioni che l'individuo è costretto a soffrire oggi ecco appunto e questo è Spacca Napoli Times Maurizio stiamo proprio per chiudere vediamo se c'hai anche titoli sul Vaticano titoli sul Vaticano